Ciao a tutti, sono Sib, forse meglio conosciuto come Siberian89, e questa volta metteremo in atto diversi delitti contro le creature dei nostri avversari con Etrata la silenziatrice come nostro comandante. Per due mana generici, uno blu e uno nero, Etrata la silenziatrice è una 3-5 assassino vampiro che, oltre ad essere imbloccabile, si diverte a suggerire una particolare condizione di vittoria. Infatti, ogni volta che Etrata infligge danno da combattimento a un giocatore, dovremo esiliare con un segnalino delitto una creatura sotto il suo controllo, poi se quel giocatore possiede 3 carte esiliate con un segnalino delitto, allora perde la partita. La nota triste è che ogni volta che infliggerà danno da combattimento a un giocatore, Etrata cercherà di rimischiarsi nel nostro mazzo, fuga non proprio carina da intraprendere, e che per eliminare un giocatore dalla partita non basterà che abbia 3 carte esiliate con un segnalino delitto, ma dovremo anche infliggerli danno con Etrata per innescare l'abilità. Ciò ci rende abbastanza difficile gestire un mazzo basato sull'idea di vincere tramite Etrata, perché dovrebbero allinearsi gli astri. Anche non rimischiandola nel mazzo e mandandola nella zona di comando, ci sarà sempre più difficile rimetterla in gioco per via della tassa sul comandante. Come se non bastasse, è necessario che i nostri avversari abbiano qualcosa da esiliare che non sia il loro comandante, e tenere Etrata troppo tempo sul campo di battaglia significa attirare ogni genere di rimozione e attenzione. Eppure, anziché sperare che la partita fili liscia, potremmo prendere noi il controllo del nostro destino e metterci all'opera perché gli astri si allineino. Ecco quindi l'idea di mettere Etrata la silenziatrice al comando di un mazzo Dimir Control. Dovremmo solo stare attenti a non venire eliminati dalla partita e ad evitare che qualcun altro la vinca o sommerga eccessivamente il board, con una bella dose di contromagie e rimozioni di massa, per poi dare il via al nostro crimine perfetto, magari eliminando un giocatore a turno. Tutto quello che ci serve è giocare Etrata dandole rapidità, magari con Stivali Piedelesto o Sala del Lord Bandito, attaccare un giocatore con almeno tre creature di sua proprietà sotto il suo controllo, senza contare il suo comandante, e copiare l'abilità innescata di Etrata con Risuonatore Strionico e copiare l'abilità attivata di Risuonatore con Anelli dell'Allegro Focolare. Così facendo esileremo in un solo attacco tre creature che ci servono per eliminare il loro possessore dalla partita. Etrata cercherà comunque di rimischiarsi nel nostro mazzo, ma possiamo evitare che il nostro assassino vampiro fugga, semplicemente blinkandola o sfasandola in risposta alla sua innescata. L'ideale sarebbe farlo con Navigatore Infallibile o con Sparizione, ma potremmo essere costretti a ricorrere a carte come Dislocare o Contrabbandiere di Nefalia. E questo è il motivo per cui Schinieri dei Fulmini non è tra le carte migliori in questa build. Per recuperare Anelli dell'Allegro Focolare dal nostro mazzo possiamo usare Maga dei Trofei. Inoltre Maga dei Trofei può anche trovare Frammento di Cristallo, carta che possiamo usare per salvare Etrata, rimbalzare la stessa Maga dei Trofei o rompere le scatole ai nostri avversari. C'è ancora un artefatto che può essere recuperato da Maga dei Trofei e che va splendidamente in combo con Anelli dell'Allegro Focolare. Ed è monolito di basalto. Se sul campo di battaglia, questi due artefatti possono darci facilmente mana in colore infinito, mana che possiamo usare per vincere la partita tramite Balista Mobile o Distanguare, o per eliminare un giocatore dalla partita con Zenith del Sole Blu. Ho spiegato in maniera esaustiva il funzionamento della combo nel video dedicato a Rashmi Plasmatrice di Eternità, ma per farla breve funziona così. Si tappa monolito di basalto per aggiungere mana, si attiva la sua abilità di Stap e si copia questa abilità con Anelli dell'Allegro Focolare. Ripetere ad occorrenza ed è con millemila miliardi di mana in colori. Se non dovessimo riuscire ad eliminare un giocatore per l'ostinazione a non giocare creature, cosa che in un mazzo control comunque va a nostro vantaggio, potremmo sempre obbligarlo apprendendo il controllo del suo turno. Per farlo abbiamo a disposizione la classica Dominamente, e visto che ci siamo non vedo perché non giocare Rovine dell'Accademia così da ripetere in eterno il nostro controllo mentale. Per aiutarci a recuperare questi e altri succosi artefatti dal nostro mazzo possiamo lasciare uno spazio tra le nostre terre per fiera degli inventori. Se nessuna di queste combo dovesse andare a buon fine, potremmo sempre sfruttare l'impossibilità di essere bloccata dietrata. Vincere da danni di comandante sarebbe difficile e lungo, ma basterebbero due attacchi con esoscheletro innestato per vincere da segnalini veleno. Resta solo da citare Elmo della Moltitudine che, se protetto a dovere, può iniziare a creare copie del nostro comandante pronte ad esiliare creature e magari ad eliminare avversari dalla partita. Impostata l'idea di base, ecco vi propongo due liste a cui dare un'occhiata per poter montare un mazzo attorno ad etrata. Mantenendo tutte le combo elencate fino ad ora e mantenendo alto il numero di rimozioni e contro magie, vediamo di costruire una build budget e una dal costo decisamente meno contenuto. Partendo dalla lista budget, sono un'ottima opzione come rimozione di massa, zenith del sole nero e il finale della vita. Paure recondite è un buon modo di controllare un turno di un avversario e pista di indizi e confermare i sospetti possono essere un'opzione interessante per pescare mentre cerchiamo di mantenere il controllo. Se non volessimo badare a spese potremmo ovviamente includere tra le nostre 99 carte dannazione o dirubio tossico come rimozioni di massa, ordine criptico come contro magia, rimozione, peschino, utility, tutore vampirico e tutore demoniaco come, beh, tutori e mago lancio rapido per rigiocare le nostre magie dal cimitero. In entrambe le build possiamo giocare muro mnemonico, archiomante e recuperatrice di segreti per usare più volte le nostre magie. Mentre dobbiamo tenere sempre in conto che etrata deve riuscire ad attaccare e ad infliggere danni per poter innescare la sua abilità e che, per evitare che terre come labirinto di Hit e barato glaciale ci fermino, dobbiamo giocare tra le nostre terre carte come quartiere fantasma o miniera a cielo aperto. Vi ricordo che, come al solito, queste sono idee e spunti su cui lavorare e che in descrizione potete trovare due liste d'esempio basate su queste. Non vogliono essere affatto delle liste definitive e ogni vostra modifica contribuisce a rendere il vostro mazzo veramente vostro. Siamo quindi giunti alla fine del video e devo ringraziare vivamente Domenico Aceto e Angelo Tricase per il grande aiuto e tutti voi che state guardando questa deck tech. Sapete come funziona, quindi non vi ripeterò le solite cose, ma fatemi sapere se il video vi è piaciuto e quali comandanti vorreste vedere. Questa era Etrata alla Silenziatrice, io sono Sib e ci rivedremo ad un prossimo video.